Minchia, marron merda, sì Fieric gioca ai miei pokémon marron merda Cioè, mamma mia, ragazzi Pokémon marron merda È stato 8 nel 2011, non fa più ridere Tonio Cartonio, la melevisione Cioè Facciai ridere a quei tempi lì Quando avevi 13 anni, ti facciai due risate Sì, a parte ci sono un sacco di cose che su Twitch Swap mal fight Ok, ok Ok, si può fare, forse contro Jace è anche più facile Va benissimo Il Maury È stato un caporeo del Rape Ma sì, però, allora, a parte che uno non Ecco, intanto invade No, dai, la kill al Maury subito no, eh Ok, ok Vai, non li killano più Se non escono dalla torre, non li killano Guardate che scherzetto li facciamo, Jace, adesso Guardate che scherzetto li facciamo, Jace, appena passa Dov'è il Jace? Dov'è? Ora passano i minion Cioè, a me dovrebbe essere bello che è andato back Ma è passato da sotto Non ci che, ma è passato da sotto Ma porca Beccati questo, stronzo Mi nascondo qui Come la mettiamo? Adesso aspettiamo lo scudino Il Mana Flow E li tiriamo un'altra bella qui in testa Ecco qua, tieni Guarda lì Guarda che danno Già metà vita questo Ah no, mi hai trattato un attacco No Mi hai tolto quasi tutto lo scudo Aspetta che me lo faccio tornare subito Aspettiamo Ecco qua È tornato Sembrano le Q di Maury quelle Me lo ricordo esattamente così Stiamo indietro Aspettiamo lo scudo Ovviamente lui per i livelli È comunque un Jace Non è che possiamo fare molto Livello 1 con Malphite Però Maury mi diceva sempre Se c'è un campione che non vuole avere contro con Jace È Malphite Perché se ho a full armor non gli fai niente Se ho a full AP ti shot Abbiamo un altro bel punticino sulla Q Boom Qua che pigna gli abbiamo tirato Sì a livello 6 ce lo trombiamo Assolutamente sì Ma forse anche prima vi dirò Eeeh Giù che è Megashin Impact No però ci ho fatto una sponsor Ueeh Un enemy ha stato slaino Un ally ha stato slaino Armiamo Aspettiamo sempre Mana Flow E la Comet Per massimizzare la value delle nostre Q Sì 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 Mo ti inseguo E mo E mo Ecco qua Malphite ha clappato Signore e signore Prendiamo l'ex per il carretto Yes Molto bene Vai Scarpe Magic Pen Guardate con che cattiveria partiamo Partire di Scarpe Magic Pen Con Malphite È veramente essere Tanto cattivi Tanto cattivi Contro un Jace Mi crasha la wave Perfetto Ma guarda Neanche un autoattacco dalla torre Si prendono questi Ma benissimo Noi perdiamo 3 minion Lui ne perde tipo 15 Quindi Ah Ho una tragedia per lui Ma vorrei Stai attento Vediamo un po' I danni della Q adesso Ok Gold Reset Fa ridere che da solo Me lo sarei killato Tranquillamente Senza neanche morirci Invece è così Però va bene Un bel gold resettino Ci sta Un bel gold resettino Ci sta sempre ragazzi Back Oddio Easy Peccato per la wave mid Però sti cazzi In iron non conta Il flash Lo faccio usare Beh Meglio usare il flash E non morirci Che Lui ce l'ha usato comunque Il flash Che c'è morto Penso che Io mazzo anche Yasu Ma tra parenti Si stanno C'è anche Yasu Sta perdendo Oddio Cancato bot Non sa proprio Che cazzo fare Sto Jace Però ha preso Una kill Ulteriore Secondo che non c'ho La ulti Jace È andato bot E magicamente Si sta fidando Cioè io mi chiedo Come sia possibile Vabbè Vabbè Yasu Non si sta fidando Quello è poco Ma sicuro Chissà anche Lina andrà Jace Adesso Perché poi Jace Non vuol giocare Né contro Jax Né contro Malphite Quindi Lo scopriremo Subito Dove deciderà Di andare Jace Dove sei? Yasu Vabbè Oh no Eh Non ho preso Yasu Rotellone Molto bene Oh Avete sentito Silas Oh Yasu Ci chieda Peramente Tanto Jace è top Ma io penso Che Jax Se lo possa Già stompare C'è i tabby C'è Senso Infatti Tragedia Per il team Jace Era proprio Il pick Sbagliato Era proprio Il pick Sbagliato Jace Nonostante Abbiamo preso 3 kill A cazzo Di cane Per usare Per scappare In mente Perché Perché non Cioè Così su due piedi Non mi viene in mente Nessuno Però Pur parler Diciamo che È una cosa che Zeb Lì non penso Ci sia molto Da parlare Sono scelte sue Non è Tocca flashare Qua Perché non C'ho la ulti Sennò Li stompavo 170 gol Ragazzi Mamma mia Mamma che Pergedia Ma pure Jax Stava incazzando Come una Maiala Sto game Non è che c'è Kane Che sta provando A fare un po' Schifo Ma Non basterà Comunque Ok 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 Dai Un pochino Hanno fatto i nemici Su via Eh Mi hanno Ignatato Flasciato E quant'altro Weez Weez Grazie mille Nel Prime Benvenuto Carissimo Grazie mille White Però mi hai fatto Altri esempi Di streamer Che secondo te Se la passano male Però io penso Che ci sia un grosso Problema in generale Ovvero che Quando fai questa cosa Da tanti anni Ok Può essere un ciccio gamer O tanti altri Fai fatica Ad aggiornarti Perché Sei talmente abituato A qualcosa Che Fai fatica Ad aggiornarti Cioè il mondo Si evolve tanto Ma io pure Sono così Ok Che io non è che sia Vecchio Però il problema Di questo mondo Come in realtà Del mondo In generale Però Adesso stiamo parlando Dei social Parliamo dei social Però aspettate un attimo Massacrali tutti Sium Bella Jax Ti ero mancato Mauri Grazie Burrick Per il sub Grazie mille Caro Comunque Dicevo Tipo Anziani con la tecnologia Più o meno Più o meno Ovvero che Vi faccio un esempio Con quello che sento io Io so di avere Questo problema Ne sono assolutamente Consapevole Ma Ne stavo parlando Non so se Vi ricordate di Omer Il ragazzo turco Con cui Avevo giocato Finito anche il video Che adesso è diventato Master Ugway Che ho scoperto Essere uno Degli Short Tuber Vengono chiamati Sono youtuber Che fanno soltanto Shorts Più famosi al mondo Però ne parlavo Anche con lui Tempo fa E tipo Dicevo che Parlavo del fatto Di quanto siano Importanti I contenuti corti Quindi Shorts Reels E TikTok Perché ormai La gente Quelli guarda Ok C'è una fetta Non grossa Di più Enorme Gigantesca Di pubblico Che Guarda solo Contenuti corti Non è che dici Guarda solo Contenuti corti Tutti quelli che Prima magari Si guardavano Al cesso Un video di 10 minuti Adesso piuttosto Che guardare Un video di 10 minuti Sguardano 30 video Da 20 secondi Capito? Poi non voglio Soffermarmi Sti cazzo Guardano quello che vogliono Fatto sta che Il concetto è Ora c'è questa cosa Questa è la moda Maledizione No 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 Morgana Strike Se tiene la Q E scappiamo Però Lo clappiamo A questo La gente Non caga più Che una volta Insomma Il concetto è che Adesso Hanno di moda Questi contenuti corti Ok Dove tu magari Quello che prima Spiegavi in un video Di 10 minuti Lo fai in un video Di un minuto Bene Ora Appurato che a me Personalmente non piace Ok Anche io ogni tanto Mi metto a guardarli Gli shorts E real Cioè non pensate Però Sono una piccola parte Di ciò che guardo In un giorno Mentre per molti E letteralmente È l'unica parte Va bene Il concetto è che Se tu fai questo lavoro Ok Il lavoro di influencer Più che streamer Youtube Esiste l'influencer Perché uno deve fare un po' tutto Non può focalizzarsi solo Su una cosa Tu devi aggiornare Cioè devi portare I contenuti corti Ok Perché se non li porti Sarei sempre Indietro agli altri Ti 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 precludi Una parte Molto importante Di pubblico Che non è più Disposta a guardarti Portando soltanto Contenuti lunghi Quindi però Di molte persone Io mi riconosco Che ho questo problema Perché io non riesco A mettermi nella testa Ok devo fare gli shorts Ok devo fare i tiktok Perché Boh Non mi piacciono Faccio la tic a focalizzarmi Cioè volevo dire Questa kill era molto short Ci abbiamo messo Molto poco tempo a farla Però Non sono molto bravo Da questo punto di vista Lo riconosco Faccio la tic a focalizzarmi In ciò che non mi piace Guarda in qualche modo Mi ha preso To Ma Dov'è il Silas Eccolo E Entrato Nella Fog of War E non c'è ancora La ultima Penso di averla più spesso Oh beh Quindi Questo è un po' Il problema Di Di alcuni Influencer Che non riescono Ad aggiornarci Anch'io faccio un po' Fatica Infatti C'ho mezzo pensato Di assumere qualcuno Che lavori Suo Escosamente a quello Che Ma non soltanto Prendere le clip Perché a prendere Le clip a postale Sono capaci tutti Capito Ma proprio qualcuno Che abbia la testa Che conosca Qua Tipo one shot Tutto il team nemico Arrivo ragazzi Tocca Ok Ho spettato troppo Vabbè Perché non meggiai Perché Sono morto Vedi Lo sapevo Io avevo già previsto No? Di morire Eh Lo so Ora posso Ora posso Prendere Se deve qualcuno Proprio che Conoscesse molto bene Tutti i trend Che vanno sul momento Io sono Io sono un boomer ragazzi Per i trend Per i meme Non Non lo so ragazzi Ma perché io non passo Tutto il tempo A guardare cazzate Cosa che invece Deve fare magari Per studiarmele No? Dici Uno passa tutto il tempo Su tiktok Così sa cosa piace alla gente Sa magari come integrare La propria personalità Però Nei contenuti Che piacciono alle persone Tipo Poldo Cioè quando Poldo Bertra Eme Tutti questi qua Mi citano i meme Io non li capisco Perché a contrario di loro Io passo il mio tempo Facendo altro Sono gusti Passo il mio tempo Facendo altro Quindi io Tutte queste cose qua Non Non le Non le conosco Tutti conoscono i meme Io no E soltanto che Quelli sono ciò che attirano Perché la gente adesso Vuole solo i meme No? Quindi sarebbe letteralmente Qualcuno che Lavorasse a Farmi fare ciò Che io da solo Non sono in grado Anche di pensare Di dire Ok Fai un contenuto Su questo argomento Perché va di tendenza Posso farlo Però se non conosco L'argomento di tendenza Non lo posso fare Capito? Top 3 kill con Jax Vediamo se becchiamo Qualcuno in giungla Se lasse suck me Succhiami Report Yasuo Nel dubbio Sempre report Yasuo Ragazzi Eh L'ha rubato Report Yasuo Me l'ha rubato Vendichiamoci subito Madonna Sono tutti sti ping Vado a pushare mid Un professionista Delle cazzate Sì esatto Devo assumere qualche Qualche adolescente Che passa tutto il tempo lì Dice Fieri Fai un contenuto su questo Che va di moda Sto meme Influencer Perché È diciamo Il termine ufficiale Hai guardato anche È vero che c'hanno 57 Guarda Ce n'è uno anche lì Ma sta succedendo Ma sta succedendo Vediamo se viene qualcuno Ragazzi Non ci sono nemici Why fight Perché Perché Vai c'è C'è il Jace C'è il Jace Vieni qua Jace Vieni qua Ti prendo Due belle stack Per il mio magiae Ragazzi Prese Senti perfetto Per fare il meme Il tizio muscoloso Baby don't hurt me Michael No si chiama Michael Earn Quello che dice di essere natural C'ha quasi 60 anni Con quel fisico Michael Earn Ecco I meme sulla palestra Li conosco Perché quelli mescono Di continuo Casualmente Casualmente Naturalmente Dopato Sì Infatti C'è Lui è proprio Bo Infatti Da pollo Poldo fammi da social media manager Grazie Annoid power Vai associato Ggp E chiedi Puoi dare una troll build Per questo campione Lo chiedereste Ad una persona E beccati Staccu Stronzo Vabbè Siamo in modalità Farming Che cazzo Attirata La madonna Pare Un danno Un po' Esagerato Comunque Ma Leggermente Esagerato Poco Poco Perché il mio Jungle è full Letality Con la forma Rossa Qualcuno Non lo sa Per caso Mi sono Perso Un aggiornamento Gratis Lo paghi Per l'esperienza Certo 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 Cane Viola Il cane Viola Adesso Adesso Sì Arriva Il Il Ah no Sì Arriva Silas Guarda Ah o niente Non l'ha preso Scoppiato Scomparso Scomparso Alla faccia Della terra Proprio Bello Fidatino C'ha Presente La mia Build Non so Dove Abbia Preso Tutte Ste Kill Sinceramente Però Vedendo 14 Morte Della Bottlin Forse Qualche Idea Me La Sono Fatta Sti tizi Guardano Un sacco Altra Guarda Qui Io Non penso Sia Guardato In sto Punto Se volete Anche qua C'è Hanno Qualche Disturbo Prendiamo Il Silas Ok E Vinciamo No Il Flash D'Iron Era Troppo Spesso Il Muro Dai Raga Ma abbiamo Stompato Il Silas Come Possibile Ma Come È Potuto Accadere Oh Rapid Perché Ah Ok Abbiamo Trovato L'impostore Ragazzi Abbiamo Trovato L'impostore Mi sa Tre Livelli Sotto Tutti I Ultimi Sforo Devo Farmi La Zonia Via Questo E Non Era un Game Da Me Già Ma Lo Sapevo Ragazzi Lo Sapevo L'ho Fatto Per Voi Ma Lo Sapevo Che Non Era Che Abbiamo Un momento Bambino Di due Anni In chat Galeforce Su Jinx Ma non è neanche Il Galeforce Tanto il problema Anche perché Non hanno Cioè Sono tutti squishy Il rapid fire Cannon Il problema Jinx Rambo 88 Vabbè Dai C'ha quasi 40 anni Non voglio Flammar E si chiama Anche con Con il nome Di uno Dei Suoi Filme Preferiti Quindi Io Beh Tirate giù Tutto Ragazzi Tanto Adesso Non dovete Disrespectarmi Cos'è Jace Ti sei Dimenticato Chi cazzo Comanda C'è qualcuno Qui Prendilo Ah prendiamo Questo Comunque Questo tizio qua Non è iron A quanto pare Ma è ok Così Così Uh Che si è fermato Il mio personaggio Del cazzo Oh Oh Ah Scemo Ti prendiamo Oh Questo more Sta a vedere No Ok Ok Clappato Heads clap Scopriamo se c'è un nemico da queste parti C'è un jazzo C'è un jazzo Ma jazzo col kraken Guarda quanta movement speed Prendo Comunque Cazzo è andato Yasuo Scomparso Il mauri Il mauri Insomma Ok Ok Oh oh Ah vabbè Tanto è morto Jax Easy Vai Prendete tutto Finchè ma che Stabil Vabbè Le riduzioni Curi Le abbiamo Noi Ma quando Ma che Fieri Ma che domande Fai Adesso Ho soltanto Un silas Che si refulla Cioè Che con una W Prende 800 di vita Non è meglio Runa di rapid fire Era meglio Prendere L'infinity edge Al posto Del rapid fire Come ha fatto Miss fortune Infatti Miss fortune I danni li fa Al contrario Di jinx Visto Quella L'infinity edge Puoi farlo Soltanto Con 40% Crit E non più 60% Come prima Poiché in Costa build Vabbè Scusate Non ci ho visto Ho visto Neanche La sagoma Di miss fortune Ho ultato su Anche perché Togli miss fortune Dall'equazione Non è silas Però è comunque Il secondo più forte Dopo silas Quindi Allora Io Non vorrei che Ok Non vanno a fare All baron Anche perché Senza miss fortune È dura Che riescano a farlo C'è il tizio qua C'è il tizio qua C'era Però non c'è più Però c'era Oddio Sono spostati Di poco poco No Vuole Ma quanto dura Ma santa madonna Ragazzi Tre La Q di morga La Q di morga Oddio Dai La zone un pochino fa Poco Ma buono Mi hanno dato Afka ragazzi Seriamente Afka da una Q Vabbè Ragazzi Se volete supportare Questo streamer Stremato Dalla Q di morgana Potete abbonarvi Come al solito Gratis con amazon prime Utilizzatelo Chi vi tiene compagnia Il sabato sera Io Abbonatevi al canale Ragazzi Non ve ne pentirete Comunque poi Devo annunciare Anche su insta Anche domani E Alle 15 Iniziamo la nuova serie Di minecraft Dopo tanto tempo La chiamiamo Africraft Per Il ritorno Agli albori Tanto alla fine Alla gente Piace come nome Anche se A parte il fatto Che c'ho il personaggio nero Non ha nulla Che fare con l'Africa Sono anche giù No Non ci prostituiamo Per così poco In questo canale Oh cazzo C'è il bar Non ha senso Che ho da bottling Non ho il tp Fa la casa In deserto Ma guarda che in Africa Non c'è solo il deserto Nord Africa Sì C'ha lo scudo Se non avesse avuto Lo scudo Lì ultavo In mezzo What? Come items Se sei cento Danti Vabbè Chiudete il game Grazie Non ho fatto manco Il tempo a zionare Rap Iasou Reportate Iasou Ragazzi Ma scusa Il Jace No 14 morte Fons Bro Grazie mille Del Prime Molto gentile Grazie tante Grazie male Doppia esplosione A quanto non si vede La doppia esplosione Che iasou Io onoro Jax Che ha fatto Degli ottimi swap Ha fatto la call giusta Con lo swap Non è Solito vedere gli iron Che chiedono lo swap Per il matchup Favorevole Sapete Cioè Jax Se vai entrambi favorevoli Però voleva giocare Conto gli asou Va bene